Sì, sì, questo motore perde colpi. Senti che brutto rumore? Qui dentro si è nascosto un nemico. Dobbiamo sconfiggerlo, dobbiamo sconfiggerlo, dobbiamo sconfiggerlo. Sconfiggere Brett il guastatore? Sconfiggermi! Ehi, chi c'è laggiù? Adesso ci provano anche con i due più famosi moschettieri del regno. Ora, tocca a me. Ehi, chi c'è raggiù? Guardie, il ponte! Abbassate il ponte! Ubbidisco, signore! Fuggite voi! A Black ci penso io! Evviva! E adesso ti impacchetto io! Deve ancora nascere quello che riuscirà a farmi fuori! Ah 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 ah! il tigre ha vinto ancora una volta esso extra il super carburante a formula purissima mantiene più pulito il vostro motore per partenze immediate per sorpassi sicuri metti un tigre nel motore in tutte le stazioni esso